Vi devo dire che ieri quando poi è salito nella zona intervista di Massimiliano Allegri ci siamo salutati, gli ho dato un abbraccio, gli ho detto che si aveva finito di far casino, mi aveva detto di sì, mi dice come stai, come vuoi che stia? Però tutto insomma nella massima serenità, nei rapporti con i protagonisti, nei rapporti con l'avversario. Però come sto oggi, ve l'ho detto alla fine del video precedente, abbiamo perso tre punti, rispetto a tutti, parlavo di simmetria nel video precedente, qui lasciatemi dire qualcos'altro, lasciatemi sfogare un attimo anche a me come fosse un tifoso come voi, io vedo della simmetria anche fra Roma-Milan e Milan-Juventus, perché in Roma-Milan fa due falli, Tomori, espulso, ne fa otto, Celic, Suleao, ammonito all'ottavo fallo. Eh, ieri, devo dire che Gatti, rispetto a Celic, ha giocato una partita un po' più pulita, un po' più umile, però è la stessa roba, cioè alla fine, per carità, l'espulsione è giusta, ma Ciao fa un fallo, anzi due, due, il primo secondo me non c'era, ma è stato fischiato all'arbitro Mariani, Malik fa un fallo importante, espulso, Gatti ne fa otto, nove, dieci e viene ammonito all'ottavo come Celic a Roma. Cioè, ho la sensazione, ragazzi, ho la sensazione che siccome qualcuno aveva detto che Leao lo si ferma soltanto facendo fallo e poi Leao c'è quello che non lo farebbe giocare, quell'altro che dice che come Balotelli, con massimo rispetto nei confronti di tutti, mancherebbe altro, però sembra quasi che, beh, vabbè, dai la botta, Leao si può dare, cioè è entrata anche perché gli arbitri, non sto parlando nello specifico di Mariani, per carità, però gli arbitri fanno parte anche loro, del clima, del nostro carrozzone che va e viene, di dichiarazioni, di cose, di atmosfere, di umori, insomma, Leao se può menare, non è la fine del mondo, è normale, è forte, è chiaro che prende i falli e quindi il fallo sistematico su Leao viene tollerato, poi non abbiamo perso per quello, non abbiamo perso per quello, però sai, se magari Gatti viene ammunito già nel primo tempo, magari poi, che so, la partita è lunga, no? Perché a Tomori è successo di prendere l'ammunizione nel primo tempo a Roma e di essere espulso nel secondo, possibile che solo i nostri difensori vengono espulsi nel primo tempo, invece c'è lì che Leao vengono espulsi verso il 75esimo, 80esimo, c'è lì che Gatti vengono espulsi verso il 75esimo, 80esimo, cioè, ma non lo dico come non mi permetto di attaccare gli arbitri o di buttarla in cacciata sugli arbitri per una partita che abbiamo perso noi, per nostra culpa, nostra massima culpa e per i nostri errori, però parlo del clima generale, siccome Leao abbiamo deciso quest'anno, l'anno scorso avevamo deciso che il rinnovo contrattuale di Leao era la pietra fondamentale del Milan, invece quest'anno abbiamo deciso che è diventato un ragazzo un po' strano, che si avrà dei picchi di rendimento, però anche ieri Allegri, e qui lo critico, dice, ebbè ma tanto loro davano palla a Leao, come se dare palla a Leao non sia valido, cioè dare palla a Leao è un sottrarsi alla parita, un sottrarsi al gioco, cercare la via breve, ma se c'è una cosa per la quale veniamo messi sotto accusa noi, è che veniamo presi di infilata dai moduli di Simone Inzaghi o di Massimiliano Allegri proprio perché cerchiamo di giocare, proprio perché cerchiamo di fare la partita e ci lasciamo un po' le spalle scoperte, quindi non è vero che noi rinunciamo a giocare per dare palla a Leao, cioè come se dare palla a Leao sia una cosa da guardare strana perché il Milan pensi a giocare e non a dare palla a Leao, ragazzi ma qui veramente, cioè le cose che si dicono sul Milan e su Leao francamente ti lasciano un po' sbigottito, poi io non dico che gli arbitri ne risentano o metabolizzino questi climi per carità, però è un fatto che le due partite in cui Leao ha subito il maggior numero di falli, il maggior numero di interventi, un nostro giocatore è stato espulso, pum, e i giocatori degli altri dopo 7, 8, 9 falli vengono espulsi quando ormai la partita sta finendo, quindi sapete, sono cose che ripeto non abbiamo perso per quello, come dicevo ampiamente prima, però questo entra, entra anche un po' nel mood del futuro, adesso che cosa ci aspetta? e adesso il Milan si riscatterà, la speranza dei tifosi milanisti è come ha fatto dopo il derby, ma dopo il derby noi non ci siamo riscattati subito, dopo il derby è stato un cammino, mi ha fatto 0-0 con il Newcastle risentendone un po', poi abbiamo segnato subito col Verona, abbiamo gestito, insomma abbiamo avuto delle possibilità di gestione, oggi mi è piaciuto molto il messaggio di Leao invece, Leao dice questa sconfitta non ci... mi è sembrato raffa sulla stessa lunghezza d'onda di Stefano Pioli, sì abbiamo perso la partita per una serie di episodi e di errori nostri, però non è che ci toglie consapevolezza o certezza, onestamente non siamo mai stati inferiori alla Juventus, e la Juventus non mi è sembrata una squadra forte, però attenzione, perché sulla Juventus si dicono le cose che si dicevano su di noi l'anno dello scudetto, i palati fini, quelli con il nasino all'insù, ama gioca male, ama su uno scarsi, ama di qui, ama di là, e intanto quello va avanti a fare punti, quello continua a tenere in azione il totalizzatore, quello lo dico affettosamente ad Allegri, il totalizzatore, perché anche lui è un appassionato delle corse dei cavalli, come vi ho raccontato, lo ero io da ragazzo, adesso poi non so se ci sia ancora il totalizzatore o se ci sia qualcosa di digitale, non lo so perché non lo frequentando più da tantissimi anni, non so, però francamente ieri 11 contro 11, poi per carità può sempre succedere qualsiasi cosa, ma 11 contro 11 vedevo una squadra forte, la nostra, una squadra organizzata tra loro, al netto delle tante nostre essenze, quindi mi è piaciuto questo slancio di layout su Instagram che dice forza ragazzi tiriamo da lì e andiamo avanti, perché noi spazi per rifiatare non abbiamo, perché adesso ci aspettano due bolge, due squadre di grande qualità, cioè non abbiamo partite di alleggerimento, abbiamo partite che ci arrivano subito sui denti, perché insomma la nostra stagione in questo momento è strutturata così, abbiamo un calendario così e questo è il calendario che poi, ripeto, senza che nessuno si offenda, qui chiacchieriamo fra di noi e non è un canale ufficiale, ma non c'entra niente poi il calendario del campionato italiano, perché il tema è il calendario anche della Champions League, il calendario della Champions League che viene fatto in Italia, che viene fatto dall'UEFA e se ci capitano due trasferte di fila, Dortmund e Parigi è un calendario duro, ma questo ce lo teniamo e dobbiamo sapere che non abbiamo spazio per rifiatare. Recuperiamo un po' di giocatori, recuperiamo Magnan e Teo per Parigi, però ad esempio ecco l'assenza, io questa mattina leggevo Pietro Mazzara su Milan News, dice spuntato un'infiammazione per l'Oftus, non lo so, è una considerazione di Mazzara, non lo so, io non commento mai con la pretesa di essere ufficiale, non commento pubblicamente queste cose, però l'Oftus per noi è un giocatore importante in queste parete, perché fa legna, fa spessore, fa struttura, fa anche guizzi, fa anche cambi di passo, quindi sarà importante a questo punto se è vero, io ho letto, quindi non entro nel merito, non chiedo e non voglio sapere. Se è vero che c'è questa piccola infiammazione, è chiaro che è difficile vedere l'Oftus sia a Parigi che a Napoli e quindi diventa ancora più dura per tutti gli altri, ma dobbiamo saperlo, dobbiamo saperlo per squadre che hanno ambizioni, per squadre che hanno carattere, per squadre che hanno gruppo, per squadre che hanno spirito, più ci sono difficoltà più bisogna essere pronti ad affrontarle e adesso per noi le difficoltà sono tante e di grande spessore. a domani.